Do il benvenuto al Ministro Alfonso Bonafede e al Consigliere Petralia. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla situazione nelle carceri a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sui recenti provvedimenti di scarcerazioni disposti dalla magistratura di sorveglianza. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio il Ministro Bonafede accompagnato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Consigliere Bernardo Petralia. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione, avverto che secondo quanto convenuto in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dopo l'intervento del Ministro ciascun gruppo interverrà per sette minuti, potendo dividere il tempo a propria disposizione tra i più oratori. Invito quindi i rappresentanti dei gruppi che non l'abbiano già fatto a far prevenire al Banco della Presidenza durante lo svolgimento della relazione da parte del Ministro i nominativi dei componenti del proprio gruppo disegnati ad intervenire. In realtà li ho quasi tutti, manca giusto qualche gruppo, eventualmente presso la Segreteria o qui al Banco della Presidenza. Cedo ora la parola al Ministro della Giustizia, l'Onorevole Alfonso Bonafede, per lo svolgimento della sua relazione. Grazie. Grazie Presidente. L'opportunità di un'addizione in questa prestigiosa Commissione è sempre motivo di orgoglio e si sostanzia in un reale momento di confronto in cui poter illustrare in modo approfondito le dinamiche rilevanti che riguardano l'azione del Ministero della Giustizia. Scusate, non ho salutato, saluto tutti i commissari. L'emergenza epidemiologica che sta colpendo l'Italia e il resto del mondo rappresenta davvero una calamità di una portata del tutto nuova, che è incisa in maniera drammatica sulla vita e la salute dei cittadini, così come sui modelli relazionali e strutturali che fino a questo momento eravamo abituati a seguire. Un impatto allarmante quindi, la cui gestione non aveva precedenti nella storia della Repubblica, con la difficoltà insita nel fatto di dover necessariamente cogliere le evoluzioni scientifiche e mediche del fenomeno, prima di ricercare e individuare i giusti strumenti per contrastare la diffusione del virus e fronteggiare così l'emergenza. Con riferimento al sistema carcerario, si assiste ad una peculiare situazione nella quale, da un lato, la chiusura degli ambienti rende meno probabile il rischio astratto di contagio al suo interno. Dall'altro lato, la concentrazione di persone in uno spazio chiuso avrebbe reso la contagiosità molto alta nel momento in cui il virus fosse penetrato nelle strutture. Dunque l'estrema necessità di presidi di tutela, sia per coloro che lavorano e vivono all'interno delle carceri, sia per la collettività tutta nell'evitare che eventuali focolai avessero un impatto sovraccaricando le strutture sanitarie. Già il 22 febbraio, con una prima circolare del capo del Dipartimento, la numero 61.554, si disponeva il rispetto da parte degli istituti penitenziari e del personale delle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute, invitando allo stesso tempo ogni direzione a coordinarsi con le autorità sanitarie locali. Con la medesima circolare fu subito istituita l'unità di crisi presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, una risposta immediata che si è fin da subito caratterizzata per l'irrinunciabile collegamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Vista la peculiarità degli istituti di reclusione, il primo obiettivo doveva necessariamente individuarsi nella chiusura delle porte del carcere al virus, intervenendo in maniera sistematica sui possibili veicoli di trasmissioni dello stesso all'interno degli spazi detentivi. La limitazione dei colloqui si inseriva quindi naturalmente nel quadro complessivo dell'emergenza epidemiologica in atto che già aveva condotto, a livello generale, un contenimento degli spostamenti sul territorio nazionale. Con il Decreto Legge numero 11 dell'8 marzo 2020, l'articolo 2,8, veniva disposto che i colloqui di persona dei detenuti fossero temporaneamente sospesi, sostituendoli con modalità di colloquio a distanza. Immediatamente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si è adoperato per garantire l'effettività di tale modalità, autorizzando già con circolare del Capo del Dipartimento del 9 marzo 2020, la numero 80474, i detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza alla corrispondenza telefonica e videocolloqui, concedendo un ulteriore colloquio telefonico mensile ai detenuti sottoposti al regime carcerario di cui è l'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, con la previsione di specifiche cautele, circolare il Direttore Generale dei detenuti del 27 marzo 2020, numero 102.543, e regolamentando i colloqui audiovisivi e telefonici tra il detenuto e il difensore, circolari della Direzione Generale dei detenuti del trattamento del 16 aprile 2020, numero 125.401, del 30 aprile 2020, numero 141.919 e del 4 maggio 2020, numero 144.470. Ma non solo. Rendere effettivi i colloqui a distanza significa anche garantire la dotazione tecnologica necessaria. Significa implementare la già concessa possibilità di utilizzare la piattaforma Skype per le videochiamate. Significa infine adoperarsi per compensare anche tutte quelle attività e azioni che i colloqui di persona permettevano. Il Ministero, tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è mosso in tal senso acquisendo 1.600 smartphone, oltre ad altrettanti telefoni cellulari con fornitura in via di completamento. Inoltre si è provveduto concedendo ai detenuti in uso gratuito i servizi di lavanderia interni, autorizzando la possibilità di ricevere bonifici bancari online e aumentando i limiti di spesa per il detenuto. Ci tengo a sottolineare come la limitazione ai colloqui di persona sia stata una misura successivamente adottata anche dagli altri Stati europei, come in Francia il 18 marzo, in Spagna dal 15 marzo e in Gran Bretagna nell'ultima metà di marzo. Altri rischi di contagio derivano ovviamente dall'ingresso di nuovi detenuti, cosiddetti nuovi giunti, e dal personale che opera all'interno degli istituti. Per quanto concerne il personale in servizio, oltre alla distribuzione dei dispositivi di protezione, i controlli, anche tramite termoscanner, permettono di far scattare il divieto di ingresso per i dipendenti che presentano stati compatibili con il cosiddetto Covid-19, in attesa degli accertamenti definitivi, nonché l'abbandono del posto di lavoro in caso di sintomatologia in sorta durante il servizio. Numerose sono le disposizioni previste per sostenere il personale di polizia penitenziaria o civile obbligato alla quarantena. Ricordo l'attivazione di reti Wi-Fi gratuite, l'esonero del pagamento del canone per la durata della quarantena presso gli alloggi di servizio, l'assistenza psicologica da parte della Croce Rossa italiana, grazie ad apposito protocollo stipulato da quest'ultima con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'erogazione di un sussidio economico per il personale che ha contratto il virus, l'aumento degli straordinari per gli agenti della Polizia penitenziaria e per l'intero personale non militare. Fin dal 25 febbraio, con la circolare del Capo del Dipartimento numero 65630, è iniziata l'individuazione degli spazi idonei di isolamento sanitario e per effettuare il cosiddetto pretriage, nonché la predisposizione delle procedure per la fornitura dei presidi sanitari. In sinergia con la protezione civile sono state installate 145 tensostrutture agli ingressi degli istituti penitenziari per permettere il controllo dei detenuti in entrata. In quegli istituti dove non è presente una tensostruttura sono stati individuati appositi spazi interni. Le misure hanno permesso quindi di monitorare gli ingressi e di provvedere immediatamente all'isolamento nei casi di sospetto contagio, grazie all'individuazione di apposite sezioni da parte dei direttori degli istituti. È garantita poi assistenza sanitaria specifica per i soggetti contagiati con personale medico a cui è rimessa la valutazione circa la necessità di eventuale ricovero presso strutture sanitarie esterne. Cautele sono previste anche per i detenuti in uscita, con l'obbligo di sottoporsi a visita medica in caso di sintomi compatibili con il Covid-19, il protocollo prevede l'immediata segnalazione all'autorità sanitaria competente per territorio al fine della presa in carica del soggetto. Analoga procedura in ipotesi di trasferimento del detenuto con la precisazione che, in questo caso, laddove è ritenuto necessario dal personale medico il tampone viene dato corso al trasferimento soltanto all'esito negativo dello stesso. Alle misure elencate si aggiungono le costanti attività di sanificazione dei locali che hanno ospitato i detenuti contagiati o con sospetto di contagio. Come già detto sopra, è evidente che la concentrazione di persone comporta un aumento del rischio di contagio. Per questo motivo abbiamo ritenuto fosse necessario intervenire senza intaccare il principio della certezza della pena, ma evitando al contempo una congestione delle presenze dovuta al possibile malfunzionamento delle leggi vigenti. Per tale ragione il Governo ha deciso di intervenire nell'ambito del perimetro normativo già esistente, in particolare quello della legge numero 199 del 2010, semplificandone l'applicazione. La strada intrapresa, dunque, ha inteso rendere maggiormente efficace l'impianto normativo già esistente e disciplinato dalla legge 199 del 2010 attraverso l'articolo 123 del Decreto-Legge numero 18 del 2020, che concerne tutti i detenuti con un residuo di pena da scontare pari o inferiore a 18 mesi di reclusione. È importante sottolineare subito che dall'applicazione dell'articolo 123 sono esclusi i detenuti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, la numero 354 e dagli articoli 572 e 612 bis del Codice Penale, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i detenuti che sono sottoposti a regime di sorveglianza particolare, i detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per alcune infrazioni disciplinari e i detenuti coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020. La platea dei destinatari dell'articolo 123 è dunque più ristretta rispetto alla legge numero 199 del 2010 e a fronte di un'attuazione più agile della norma comporta un controllo di sicurezza maggiore grazie all'applicazione dei braccialetti elettronici, applicazione obbligatoria nel caso in cui la pena residua da scontare sia superiore a sei mesi. A ciò si è aggiunto l'articolo 124 del Decreto-Legge 18 del 2020 che per i condannati ammessi a regime di semi-libertà prevede la concessione di licenze con durata fino al 30 giugno 2020 salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi nella concessione della misura. Con la circolare del direttore generale dei detenuti e del trattamento del 21 marzo 2020 si prevedeva la trasmissione all'autorità giudiziaria da parte delle direzioni dei nominativi dei detenuti che si trovassero in particolare condizioni di salute al fine di garantire una completa informativa all'autorità giudiziaria stessa. Si registra che alla data del 2 marzo 2020 e il picco massimo diciamo di riferimento la popolazione carceraria era di 61.235 reclusi mentre alla data del 12 maggio 2020 risultano in carico agli istituti di detenzione 53.524 persone di cui 52.712 effettivamente presenti. Tale diminuzione è dovuta principalmente al calo notevolissimo di nuovi ingressi soprattutto nella fase 1 dell'emergenza coronavirus. In realtà il decreto legge cosiddetto cura Italia ha avuto un'incidenza molto ridotta. Si considera ad esempio che mentre l'applicazione della legge 199 del 2010 e di altri istituti pregressi ha portato alla detenzione domiciliare di 2.348 detenuti l'applicazione dell'articolo 123 del cosiddetto decreto cura Italia ha comportato 903 persone. Le misure normative sanitarie adottate hanno permesso di scongiurare nella cosiddetta fase 1 la diffusione massiva del contagio nelle carceri italiane. Basti pensare che alla data del 12 maggio 2020 risultano accertati solo 130 detenuti contagiati di cui due ricoverati in strutture sanitarie esterne. I detenuti guariti sono 77 e purtroppo deve essere segnalato il decesso di una persona. Segnalo poi che la quasi totalità di questi si trova nel territorio di competenza dei provveditorati delle tre aree geografiche più colpite cioè il provveditorato della Lombardia, del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta e il provveditorato del Triveneto per un totale di 121 casi su 128 attivi ristretti a testimonianza dell'estrema efficacia delle soluzioni prese nella fase più acuta dell'emergenza. Io prima di venire qui perché quelli erano i dati al 12 maggio 2020 mi sono fatto segnare proprio il dato aggiornatissimo a stamattina. Quello che mi risulta è che ci sono 110 detenuti positivi quindi il numero è minore rispetto a quello che vi ho detto, 3 ricoverati, 98 detenuti guariti quindi abbiamo già 20 più o meno sto adesso qui verificando la differenza sono 20 detenuti contagiati in meno rispetto all'ultimo dato che vi ho dato. Risultano 0 contagi in Calabria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia mentre un contagiato in Sardegna, in Emilia Romagna e nelle Marche. Per quanto concerne il personale in servizio sono sempre al 12 maggio 204 soggetti accertati come positivi di cui 28 tra il personale sanitario, 28 tra il personale sanitario quindi non afferenti all'amministrazione penitenziaria, 6 tra il personale amministrativo e 170 con riferimento alla polizia penitenziaria. Delle 176 unità in carico all'amministrazione penitenziaria cioè 6 del personale amministrativo e 170 alla polizia penitenziaria, 150 sono in isolamento presso la propria abitazione, 16 presso le caserme e 10 sono ricoverati in strutture sanitarie. I guariti sono 116 e purtroppo devono essere segnalati due decessi. Con l'inizio della fase 2 l'amministrazione, sempre inserendosi nel contesto nazionale relativo alle limitazioni degli spostamenti tra regioni, ha iniziato le procedure per permettere la ripresa graduale dei colloqui visivi di persone. Fino al 30 giugno i colloqui con modalità in presenza saranno contingentati dal direttore del singolo istituto previa interlocuzione necessaria con il provveditore competente e con l'autorità sanitaria locale. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge recentissimo, il numero 29 del 10 maggio 2020. Nel contesto della ripresa dell'emergenza si inseriscono quei piani programmati, in parte già attuati, in parte che troveranno la propria realizzazione nei prossimi mesi. È stata disposta l'immissione anticipata di 1.100 nuovi agenti di polizia penitenziaria, di cui 300 hanno già preso servizio nella sede di destinazione. Circa due mesi fa, il 12 marzo, ho disposto con decreto la conclusione anticipata del 177esimo corso di formazione per gli allievi, che porterà nei prossimi giorni all'ingresso di circa 809 unità. La necessaria sinergia con l'autorità sanitaria, declinata anche attraverso l'istituzione di un tavolo interministeriale con il Ministero della Salute, oltre a permettere un'oniformità delle procedure su tutto il territorio nazionale, ha portato all'assunzione straordinaria di mille operatori sanitari ripartiti tra i vari provveditorati. Le risorse inerenti al personale sono fondamentali perché anche la cosiddetta fase 2 possa essere affrontata con il massimo sforzo da parte dell'amministrazione, considerando il graduale ripristino dei regimi abituali proprio dell'universo penitenziario. Sottolineo che fin dall'inizio dell'emergenza è stato deciso di indirizzare una parte importante del lavoro dei detenuti nella produzione di mascherine. Ad oggi già gli istituti penitenziari di Napoli, Reggio Calabria, Castrovillari, Bergamo, Milano San Vittore, Milano Opera, Milano Bollate, Monza, Vigevano, Forlì e Piacenza producono mascherine per uso interno. Presso la casa circondariale di Massa è presente una sartoria industriale capace di produrre 5.000 mascherine al giorno da distribuire alla cittadinanza. Abbiamo poi realizzato con il commissario straordinario del Governo per l'emergenza Covid, il dottor Arcuri, che ringrazio pubblicamente, un progetto per la produzione industriale di mascherine, progetto che ha permesso di acquisire 8 macchinari che saranno collocati negli istituti di Milano Bollate, Salerno e Romare Bibbia già la prossima settimana. Così è previsto. La produzione sarà come obiettivo indirizzata a garantire la fornitura dei dispositivi a tutto il personale che opera negli istituti di detenzione sull'intero territorio nazionale, ma anche nel momento in cui il relativo protocollo sarà definito per dare supporto materiale anche al restante personale del Ministero della Giustizia. Accanto agli sforzi sul personale e le dotazioni di protezione, continua l'indispensabile operazione volta ad incrementare i posti detentivi. Maggiori spazi equivale a maggior sicurezza anche in ottica preventiva. Sono già 400 i posti nuovi resi disponibili nelle case circondariali di Lecce e Parma e nel mese di maggio anche nuovi padiglioni a Trani e Taranto saranno attivi, sempre secondo le previsioni del Dipartimento. Mi sono già soffermato sul decongestionamento della popolazione carceraria che ad oggi costa di 52.718 detenuti effettivamente presenti. A livello europeo sostanzialmente tutti i Paesi hanno poi adottato misure analoghe a quelle italiane per limitare il rischio di contagi nelle carcere, intervenendo sul decongestionamento della popolazione detenuta. Stesso trend, lo si è rilevato anche in molti Stati extraeuropei. Una parte dei provvedimenti di concessione di arresti o detenzione domiciliare è stata motivata non dall'applicazione della legge 199 del 2010, né tantomeno dall'articolo 123 del decreto legge cosiddetto Cura Italia, bensì da motivazioni sanitarie in virtù dell'applicazione degli istituti e delle norme sostanzialmente presenti da sempre nel nostro ordinamento. Per quanto concerne i detenuti sottoposti al regime di quell'articolo 41 bis, 2 all'ordinamento penitenziario e gli appartenenti al circuito dell'alta sicurezza, gli ultimi aggiornamenti ci consegnano un risultato di 498 detenuti, di cui 4 relative al regime di 41 bis, non più ristretti negli istituti penitenziari. Di questi 253 in attesa di giudizio sono gli arresti domiciliari, 195 in detenzione domiciliare, 35 affidati al servizio sociale. Poi c'è una cifra che a noi dagli ultimi accertamenti risulta questa, però è una cifra in evoluzione, ma possiamo più o meno da quello che ho appreso dal DAP ci distanziamo sulle 20 unità, però risultano 5 ai sensi della legge 199 del 2010 e 6 ai sensi del cosiddetto Cura Italia. Questo, ripeto, potrebbero essere cifre, ci tengo a dirlo, che potrebbero anche avere uno scostamento reale, con accertamenti che stiamo facendo, più o meno di 20 unità. Dovrebbe essere questo in base alle comunicazioni stamattina. Ci tengo a dire che, come tutti sappiamo, le due leggi in questione, sia quella del 2010, sia il decreto Cura Italia, escludono esplicitamente la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per i detenuti condannati per i predetti reati. Tuttavia sappiamo anche che c'è la giurisprudenza che individua lo scioglimento del cumulo, che ricordo a me stesso si tratta dell'interpretazione giurisprudenziale in virtù della quale i detenuti in questione, in presenza di più condanne, avrebbero sostanzialmente, permettetemi la brutale sintesi, avrebbero già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi e dunque con un residuo di pena non legato a quei reati possono accedere ai benefici previsti per i detenuti comuni. La lotta alla mafia è prioritaria nell'azione del governo ed è per questo che con il decreto legge numero 29 appena ricordato abbiamo previsto che per quanto riguarda i soggetti ristretti, le persone ristrette per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni al fine di agevolare l'associazione mafiosa nonché di detenuti internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis della legge 354 del 75 le scarcerazioni motivate da esigenze di carattere sanitario siano rivalutate alla luce del nuovo contesto epidemiologico per verificare se permangono o meno le condizioni che hanno giustificato l'uscita dagli istituti detentivi. Nel dettaglio si prevede che il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento ha acquisito il parere del procuratore distretto all'antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati internati già sottoposti al regime di quel predetto articolo 41 bis valuti la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimento e successivamente con cadenza mensile. Si prevede tuttavia che la valutazione sia effettuata immediatamente, cito testualmente proprio il testo del decreto e quindi anche prima della decorrenza dei termini sopraindicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena. nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonea ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo. Analogo meccanismo è previsto per colore quale ancora in attesa di giudizio sia stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari sempre per motivi connessi all'emergenza sanitaria. La norma segue immediatamente la circolare del 24 aprile 2020 del direttore generale dei detenuti e del trattamento numero 136.587 che prevede l'obbligo per i direttori delle carceri di trasmettere alla direzione nazionale antimafia e alle direzioni distrettuali competenti le segnalazioni o estanze concernenti i ristretti sottovoste al regime di quell'articolo 41 bis o assegnate al circuito di alta sicurezza e il decreto legge numero 28 del 30 aprile 2020 contenente la prescrizione che impone ai tribunali di sorveglianza di consultare sempre la direzione nazionale antimafia e le direzioni distrettuali antimafia su ogni richiesta di scarcerazione per motivi di salute di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51,3 bis e 3 quater del codice di procedura penale. Successivamente è stata emanata la circolare del 2 maggio 2020 la numero 144.407 che invita i direttori degli istituti penitenziari a comunicare immediatamente al Dipartimento le istanze presentate dai detenuti sottovoste al regime di quell'articolo 41 bis e appartenenti al circuito di alta sicurezza. Le suddette disposizioni hanno iniziato a dispiegare i loro effetti dimostrando come lo Stato non indietreggi in alcun modo nella lotta alla criminalità organizzata. Martedì 12 maggio ultimo scorso già uno dei soggetti ammessi alla detenzione domiciliare ha visto revocata la misura ed è rientrato verso l'istituto di pena ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge numero 29 del 10 maggio 2020. Ho concluso Presidente, volevo informare la Commissione, visto che ci sono, non so se me l'hanno mandato, sul fatto che in relazione al fatto che alcune detenzioni domiciliari o arresti domiciliari sono stati concessi in virtù di, cioè per soggetti che erano soggetti al regime di, per persone che erano soggette al regime di quell'articolo 41 bis, mi sono premurato di chiedere un parere al Comitato Tecnico Scientifico in ordine ai rischi dei soggetti detenuti al 41 bis rispetto al virus. Il Comitato Tecnico Scientifico ha risposto che in riferimento al quesito posto dal Ministero della Giustizia relativo al potenziale maggior rischio di contagio rispetto a quello sussistente al di fuori del contesto detentivo da parte di SARS-CoV-2, dei detenuti sottoposti allo speciale regime dell'articolo 41,2 dell'ordinamento penitenziario, il Comitato Tecnico Scientifico all'unanimità ritiene che tale rischio non sussista. Per maggior tutela dei detenuti sottoposti al sedetto regime detentivo si raccomanda che in occasione dei colloqui con i propri avvocati sia il detenuto che il legale indossino sono dispositivi di protezione e che vengono informati sul rispetto delle norme del distanziamento fisico. Ho concluso, Presidente. Bene, grazie signor Ministro. Allora, io ho gli iscritti a parlare davanti a me. Un attimo solo, volevo un attimo spiegare come intendevo e poi la parola sull'ordine di lavoro. Non tutti si sono prenotati, non tutti i gruppi, quindi possiamo anche racimolare qualche secondo in più dal gruppo che non intende intervenire, che è il Misto, senza troppi giri di parole. Intenderei fare un po' come si fa in aula con le informative che partono i gruppi maggiormente rappresentativi e poi si va verso i gruppi meno rappresentativi. Ricordo che abbiamo deciso di stare entro i sette minuti, ripeto, qualche secondo in più, qualche minuto, possiamo anche racimolarlo, però vi pregherei, anche per una questione di rispetto di quest'Aula, di mantenersi entro questi tempi, per dare a tutti modo di intervenire. Prego, Bartolozzi. Grazie, Presidente. Lei in parte mi ha anticipato, le chiedevo proprio questo, di sapere quali e quanti gruppi hanno chiesto di intervenire, quanti sono i deputati che hanno richiesto di intervenire e se per favore ogni volta che chiami i gruppi ci dice indicativamente quanti sono gli interventi, così da poter considerare anche se in base alle osservazioni che verranno fatte ci sarà la necessità di parlare o meno. Ma, Presidente, un'altra domanda per il suo tramite al Ministro, io vorrei comprendere se il Ministro oggi intende rispondere alle nostre domande o se riserva di rispondere come di solito è avvenuto, ahimè, Ministro, tristamente ogni volta che l'abbiamo chiamata, riserva in una nostra giornata, perché io lo dico come l'ho detto, il Ministro lo sa, il Ministro Bonafede lo sa, se il Ministro intende rispondermi oggi è inutile che parla a me stessa per poi interloquire con gli uffici che pur egregiamente l'appoggiano, quindi io vorrei, ci terrei a sapere se oggi il Ministro ci risponde o se riserva di pronunziare ad assaperata sede. Sì, allora, la disponibilità... Sì, allora, c'è stata data, il Ministro mi ha confortato in questo, la disponibilità è una replica finale, però ovviamente tutto questo deve essere anche garantito, cioè dipende anche da voi, quanto parlate, quanto intendete parlare, perché poi tutti hanno i propri impegni, compreso ovviamente il nostro Ministro. Allora, sì, la mia intenzione era chiamare gruppo per gruppo, fare i gruppi, nel senso ogni gruppo finisce il proprio tempo, quindi se sono due, uno dietro l'altro, sette, otto minuti, io se volete vi do anche un'indicazione di massima quando finisce più o meno il tempo, così vi aiuto, tutto questo a finalità di gestire al meglio la nostra seduta. Volevo un attimo... Prego, Ministro. No, per chiarire che in realtà tutte le volte che sono venuto molto volentieri nella Commissione di Giustizia a confrontarmi, mi sono trattenuto, senza fare una cortesia, nessuno per me è un'occasione importantissima di confronto, ma mi sono trattenuto sempre oltre il tempo che era previsto e chiaramente quando si parla di un'audizione di fronte alla Commissione di Giustizia e della Camera dei Deputati, tutte le domande a cui posso rispondere in quel momento, ricevono una risposta in quel momento, ci sono domande che richiedono un accertamento documentale o fattuale, visto che stiamo parlando di un'audizione alla Commissione di Giustizia e quindi è normale che in quel caso o comunque quando il tempo non lo consente, io mi riservo di dare risposta successivamente che per non voler costringere a un rapporto con i miei uffici da parte dei parlamentari non c'è nessun problema eventualmente che io torni personalmente. Bene, possiamo iniziare la nostra seduta dal punto di vista dei nostri colleghi parlamentari. Allora, come detto inizierei dal gruppo che ha maggior numero di rappresentanti, ho due iscritti a parlare, Giuliano Issaitta, ditemi voi chi intende partire, io Giuliano per prima, Giuliano prego, io vi darò il time più o meno, dopo voi vi regolate. Grazie Presidente, saluto il Ministro e saluto anche il Dottor Petralia a cui rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro. Ringrazio il Ministro per la presenza qui oggi in Commissione in un momento molto delicato per il nostro Paese, lo ringrazio anche per la sua relazione illustrativa che ci conferma il grande lavoro che è stato fatto da lei Ministro e dal suo Ministero in questo momento, in particolare per il mondo carcerario. Questa però appunto è un'occasione importante per porre l'attenzione sulla incidenza che ha avuto e sta avendo l'emergenza epidemiologica, in particolare sul mondo carcerario. Un'emergenza sanitaria che dobbiamo ricordarlo ha dimensioni planetarie e ha caratteristiche eccezionali assolutamente imprevedibili e questo è un aspetto che non deve essere assolutamente trascurato. Io mi soffermo su quello che è stato il dibattito e le polemiche sulle scarcerazioni che hanno riguardato anche condannati per reati molto gravi. Perché è un dibattito che va ricondotto in un quadro serio, quello che lei oggi ci ha rappresentato e che è la serietà che impone la tematica e la delicatezza della tematica trattata. Perché le strumentalizzazioni ovviamente hanno il solo effetto di sfaldare e di indebolire le istituzioni e quindi il fronte antimafia. Quello che ci sta a cuore è l'unità e la solidità dello Stato e questo lei anche attraverso gli ultimi provvedimenti l'ha assolutamente dimostrata. La lotta alla mafia deve proseguire senza indugi anche nella fase di esecuzione della pena certamente, ma deve proseguire con senso di responsabilità e nel rispetto delle reciproche competenze e prerogative. Come lei ha ricordato anche in aula, la funzione giudiziaria infatti è esercitata in modo assolutamente indipendente e autonomo, però i magistrati sono ovviamente soggetti alla legge e ad essi la legge si impone. Quindi innanzitutto bisogna ribadire un aspetto che lei ha specificato quest'oggi e cioè le decisioni della magistratura ovviamente sono state assunte sulla base di un quadro normativo che è già presente nel nostro ordinamento e che è strutturale. Ovviamente la politica non può e non deve interferire in alcun modo ma certamente deve prendere atto di quelle che sono le conseguenze che poi le norme producono e quindi ha la politica innanzitutto l'onere di impartire in quello che è lo svolgimento dell'attività legislativa le regole che ritiene più rispondenti alla propria linea e la sua linea, Ministro, e quella del suo Ministero è indiscutibilmente improntata alla lotta incondizionata e ce l'ha dimostrato oggi come in questi due anni, la lotta incondizionata all'illegalità di ogni genere. A conferma di ciò, proprio nel pieno rispetto di quelle che sono le prerogative, il Governo ha adottato gli ultimi provvedimenti di cui lei oggi ci ha parlato, ovviamente noi li salutiamo con estremo favore, che sono finalizzati a fornire ai magistrati che dovranno poi assumere le loro libere decisioni un quadro di informazioni molto più completo. Perché appunto il bilanciamento di interessi tra il diritto alla salute e il reinserimento nel contesto mafioso di colui che si trova attualmente in carcere possano essere valutate dai magistrati con tutte le informazioni e con un'informativa più ampia possibile. A fronte di ciò, quindi, Ministro, le chiedo quali siano i riscontri che lei e il suo Ministero ha avuto a seguito dell'adozione degli ultimi provvedimenti. Grazie. Grazie. Allora, Saitta. Grazie, Presidente. Ministro Bonafede. Mi unisco anche io ai saluti al Dottor Petralia. Auguro buon lavoro e questo penso anche a nome dell'intero gruppo del Movimento 5 Stelle. Ministro Bonafede, la sua presenza qui in Commissione è una presenza doverosa perché ritengo che quando il Parlamento chiama, quando le Commissioni chiamano, il Ministro deve essere sempre presente o deve cercare sempre di essere presente. Purtroppo non è una presenza scontata perché altri Ministri sono stati chiamati e non si sono mai presentati, adducendo anche futili motivi e questo mi sembra anche indecoroso, mi sembra anche una mancanza di rispetto di fronte all'attività parlamentare. Lei invece è stato presente e non è la prima volta che è presente qui perché è stato presente ai Question Time, chiamati non da noi ma dalle opposizioni, Fratelli d'Italia e Forza Italia ultimamente. So che sarà presente anche in Commissione Antimafia e questo sicuramente è un segnale positivo, un segnale di rispetto nei confronti del Parlamento. La questione epidemiologica sicuramente senza precedenti ha stravolto l'ordinarietà dei lavori del Parlamento, del Ministero, del DAP. È una situazione senza precedenti, l'abbiamo visto anche da un punto di vista ordinamentale. Nella sua relazione è stato anche specifico nell'individuare la particolarità degli istituti penitenziari. Per gioco forza gli istituti penitenziari sono estranei al mondo esterno, al mondo sociale, però è anche vero che molti fattori esterni entrano all'interno dell'istituto penitenziario. Faccio riferimento ai familiari dei detenuti in visita, faccio riferimento al corpo della polizia penitenziaria che vi lavora all'interno, al personale amministrativo. Quindi ritengo quanto mai opportuno i provvedimenti che sono stati presi. Anzi addirittura mi risulta che nessun istituto penitenziario è stato chiuso, non c'è stato nessun focolaio all'interno degli istituti penitenziari e questo sicuramente è la prova che i protocolli che sono stati adottati, le misure che sono state adottate, anche l'impegno che lei ha messo per procurare dispositivi individuali di protezione alla polizia penitenziaria in un momento emergenziale che riguardava non solo il settore della polizia penitenziaria ma l'intera società, l'intera Italia. Su questo siamo stati modello anche per gli altri paesi europei, lei l'ha ricordato nella sua relazione. A tal proposito volevo anche ricordare che la questione epidemiologica oggi può sembrare banale da un punto di vista dei provvedimenti da adottare ma era una situazione in continuo divenire e lei Ministro ha sempre messo la faccia nei provvedimenti che ha adottato e questo le do un merito di questo. Sui provvedimenti di scarcerazione non voglio dilungarmi rispetto a quanto ha detto anche la collega Giuliano. Alcune decisioni della magistratura di ordinanza sono anche oggetto di attività ispettiva da parte del Ministero. Mi riferisco ad esempio al caso Zaccaria, di questo aspettiamo l'istruttoria finale. Da ultimo lei ha emanato gli ultimi due decreti così come già ha riferito anche la collega Giuliano e non mi soffermo per non dilungarmi. Però io a tal proposito volevo domandare a lei Ministro Bonafede o anche al dottore Petralia se è il caso. Quali sono gli effetti dei decreti da ultimo emanato che hanno prodotto sulla organizzazione del DAP? Quali iniziative concrete già sono state messe in atto? E se vi sono in cantiere anche ulteriori iniziative per il rafforzamento del personale della pulizia penitenziaria o del DAP stesso? Grazie. Bene, grazie. Adesso ho il gruppo Lega, ho tre iscritti a parlare. Paolini, canta la messa a Tatteo. Paolini. Grazie Presidente, buongiorno Ministro. La ringrazio innanzitutto per l'esaustività delle informazioni che ci ha fornito, però le vorrei chiedere qualcosa. In particolare sappiamo tutti che molte delle scarcerazioni, soprattutto quelle di soggetti inseriti nel circuito di alta sicurezza, sono state motivate o commotivate da ragioni di salute e segnatamente di rischio in particolari soggetti di contrarre il coronavirus. La domanda lei in parte ha risposto in quanto ha detto che verso la fine di aprile, se non ricordo male, sono stati incrementati i reparti di medicina protetta. Le chiedo però, l'emergenza coronavirus è stata formalmente proclamata a fine febbraio o primi di marzo, quindi sarebbe stato a mio avviso ragionevole e pretensibile che il Dipartimento e il Ministero si procurassero non solo reparti autonomamente gestiti o formalmente richiesti alla sanità nazionale in cui ricoverare il prevedibile numero di persone soggette affette dalla nuova insidia. E questo perché avrebbe avuto un effetto oltre che naturalmente di curare i bisognosi, ma soprattutto di svolgere una funzione generale preventiva. In altri termini il boss del tal paese spesso ha motivato la richiesta non tanto per ragioni di salute o magari anche per quelle, ma soprattutto per tornare a casa. Se avesse avuto la prospettiva di essere trasferito semplicemente dal reparto di alta sicurezza del carcere di Milano, poniamo al reparto Covid sempre dentro il carcere di Milano o comunque fuori dal suo abituale luogo di residenza, probabilmente non avrebbe fatto neppure il tentativo di ottenere la scacciazione. Ecco, questa funzione generale preventiva io le vorrei chiedere se è stata tempestivamente attuata, ma dalla sua risposta deduco che è stata svolta questa funzione dopo, verso aprile. E se no, perché non ci avete potuto fin da febbraio fornire questo ulteriore supporto alla sanità penitenziaria, sia per evitare le scarcerazioni che indubbiamente hanno dato una pessima immagine anche dell'amministrazione penitenziaria, ma soprattutto hanno rischiato di lanciare un pessimo segnale alle organizzazioni malavitose che hanno potuto esibire come trofei i loro boss o comunque affiliati che sono ritornati sul territorio. Quindi cosa avete fatto fin da febbraio per incrementare la capienza del sistema sanitario protetto? Grazie. Grazie, canta la messa. Grazie Presidente. Saluto al Signor Ministro e al Dottor Pedralia, al quale va chiaramente il nostro augurio di buon lavoro per l'incarico che si appresta a svolgere. Signor Ministro, la gravità dei fatti accaduti mi impone di non tenere presente dei buoni rapporti personali, perché quello che è accaduto negli ultimi mesi è un qualche cosa che ha messo in discussione il concetto di sicurezza percepito dai cittadini, ma anche reale. Aggiungo che non credo personalmente che lei abbia mai avuto o abbia interessi diretti nelle scarcerazioni di mafiosi, ma forse questo è un aggravante, perché dimostra la sua totale incapacità nel portare avanti questo di Castella. Perché anche qui lei oggi ha detto, come diceva il mio collega Paolini molto bene, tutta una relazione molto esaustiva, ma a noi interessa sapere oggi perché 456, 400 mafiosi sono andati a casa, di chi è la responsabilità, perché il direttore del DAP si è dimesso, perché le ha accettate le dimissioni del direttore del DAP. Quindi capire perché ci sono magistrati che hanno dichiarato che in questi mesi sono stati cancellati 20 anni di lotta alla mafia, perché ci sono persone che questa notte andando a dormire tornando nei loro palazzi avvertiranno la paura perché ci sono in quei palazzi quei boss mafiosi che sono tornati e le persone sono costrette nuovamente per una responsabilità oggettiva del suo ministero e della sua conduzione a dover salutare quei boss che si affaceranno un'altra volta a quelle finestre. Noi vogliamo sapere perché Imola oggi, il 13 maggio, imputa a delle frasi dette dal Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, eventuali pressioni che lei avrebbe subito dall'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in merito alla nomina del Dottor Basentini. Credo che sia a compito suo come ministro dover dimostrare questo perché mi è stato insegnato dalla buonanima di mio padre che nella vita contiene i fatti e pensare che ci sono 460 mafiosi per strada, 6.000 detenuti hanno fatto sommosse, 14 sono morti e 40 poliziotti della Polizia Militenziaria sono andati a finire in carcere, credo che dimostri la sua totale incapacità e per questo motivo la Lega ha presentato la mozione di sfiducia nei suoi confronti che verrà discusso la settimana prossima al Senato. Grazie. Grazie. Tateo. Sì, grazie Presidente. Sì, anche io auguro il mio buon lavoro a Dottor Petralia ed è ovvio che mi associo a tutte quelle richieste, quelle domande che sono state fatte dai miei colleghi Paolini e tanta la messa. Però c'è di più che il problema delle scarcerazioni, caro ministro, lei sostiene che non abbia delle responsabilità e ha dato queste responsabilità nei grandi discorsi che ha fatto sia la Camera che al Senato in questi giorni rispondendo ai diversi magistrati dicendo che non era sua ma era di altri. Beh, io non sono assolutamente d'accordo, io ritengo che lei abbia delle grandissime responsabilità sulle scarcerazioni che sono avvenute e al di là di tutto io mi chiedo come mai ad oggi lei non abbia ancora posto rimedio a tutto ciò che sta accadendo nel Consiglio Superiore della Magistratura, c'è il cosiddetto CSM. Mi chiedo oggi sulla verità, sono uscite delle dichiarazioni, delle intercettazioni sono state pubblicate del Dottor Palimera che ovviamente mi hanno destato sconcerto e rabbia perché lei in questi due anni da ministro e anche quando era prima onorevole diceva sempre che voleva una magistratura, che voleva un'Italia per merito. Oggi invece abbiamo avuto ulteriormente la dimostrazione che all'interno della magistratura non ci sia assolutamente merito, che si vada avanti per conoscenze perché si partecipa a un determinato cerchio magico, allora quando fai parte di quel cerchio magico puoi aspirare ad un determinato incarico, se non fai parte di quel cerchio magico, evidentemente quell'incarico non lo potrai mai avere. Lei parlava anche di famoso sorteggio al CSM per essere qui. Scusi, interrompo, la inviterei a stare nel perimetro della nostra audizione. Sì, però voglio dire sempre estrettamente collegato, Presidente, alle questioni sulle scarcerazioni perché ovviamente è chiaro che tutto quello che è accaduto anche con il dottor Bassentini, Di Matteo Bonafede riguarda sempre il tema delle scarcerazioni, perché Di Matteo ha ovviamente rilasciato determinate dichiarazioni alla stampa, mentre sappiamo benissimo che tutto quello che sta accadendo all'interno della magistratura deve essere chiarito e se non lo canisce il Ministero, il Ministro della Giustizia. Certamente non lo posso chiarire io, io sto riportando oggi ciò che ho letto sulla stampa e ciò che molti miei colleghi avvocati e comunque magistrati mi chiedono, mi chiedono chiarezza e trasparenza. Oggi questa chiarezza e trasparenza non c'è e il tutto si è visto da come è stata condotta tutta questa situazione di emergenza incommerciando dalle scarcerazioni dei boss. Grazie. Grazie. Allora, Forza Italia. Zanettin, Siracusano, Sisto e Bartorozzi. Non vedo più però il deputato Sisto. Zanettin, Siracusano, Bartorozzi. Zanettin. Grazie Presidente, Ministro Bonafede. Intanto iniziamo con un augurio di buon lavoro al Dottor Petradia. Io faccio una domanda diretta, precisa precisa, la pregherei di darmi una risposta. Nella telefonata famosa, quella del 3 maggio in diretta televisiva, lei ha detto testualmente, le dico le parole precise, di poter disporre delle intercettazioni effettuate dal nucleo investigativo centrale perché è un corpo della Polizia Penitenziaria. Polizia Penitenziaria che, come è noto, è alle dipendenze del Ministero della Giustizia. Allora, Ministro, è evidente che la Polizia Penitenziaria, il NIC, sono amministrativamente nella gerarchia e appartengono al Ministero della Giustizia. Ma il NIC, che è un corpo speciale, ha invece un speciale ruolo, soprattutto di Polizia Giudiziaria e quindi dipende funzionalmente dalla magistratura. Allora, la domanda diretta che io le chiedo è questa, che io le formulo è questa. Chi le ha dato queste intercettazioni? Ci dica qual è il magistrato che le ha dato quelle intercettazioni. Grazie. Grazie. Siracusano. Grazie, Presidente. Grazie, Ministro, per la sua presenza. Spiace constatare anche in questa straordinaria circostanza che lei ha utilizzato, utilizza il suo di Castello in modo assolutamente strumentale e propagandistico. Mi riferisco a quest'ultimo decreto che lei ha fatto, premesso l'incapacità gestionale di tutta la vicenza che ha occupato le nostre cronache. Ma questo decreto ha una novità. Oltre a essere propagandistico è completamente inutile. Quindi qual è lo scopo se non accollare la responsabilità di ciò che è accaduto solo sulla magistratura di sorveglianza? Lei sa bene, spero, che questo decreto serve soltanto a simulare ciò che già i magistrati fanno, cioè le verifiche che i magistrati devono fare sulle scarcerazioni. Lei sa che i provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza, ai sensi del combinato risposto degli articoli 147 del codice penale e 47 terre dell'ordinamento penitenziario per i condannati dei reati del 4 bis, sono già soggetti a una revisione, sono a termine, sono con verifica, quindi sono soggetti a cambiamento, a essere modificati. E quindi qual è lo scopo? Ripeto, lei vuole solo scaricare, sono magistratura di sorveglianza, la responsabilità di ciò che è accaduto. Perché non ha approfittato di questa circostanza così particolare? Perché non è solo il Covid, bisogna pensare anche a dopo, per fare una vera ricognizione dei reparti clinici che sono necessari all'interno delle strutture carcerarie per curare i detenuti all'interno delle carceri. Guardia di recente sono stata a fare una visita nel carcere della mia città e ho visto che c'è un reparto di chirurgia che era un'eccellenza, dismesso da 4 anni. Perché non occuparsi di questo, che è veramente importante? Perché fare propaganda anche in questa circostanza? E poi si occupi veramente, Ministro, della Polizia Penitenziaria. Ci sono organici sottodimensionati, perché non si occupa di questo? Grazie. Allora, Costa, al posto di Sisto. Grazie, Presidente. Io vorrei innanzitutto chiedere al Ministro, visto che è considerato che, diciamo, il tema penitenziario noi lo abbiamo affrontato oggi in questa chiave emergenziale. Ma devo dire che quando avevamo avuto l'audizione del Dottor Basentini noi avevamo toccato alcuni temi che erano più strutturali e che poi non sono più stati. Dottor Basentini non è mai più venuto a riaggiornarci, né lei ha più toccato questo tema. Io dico che certamente ci sono queste situazioni acute da affrontare che lei ha affrontato in due tempi, avendo sulla scrivania già i dati delle scarcerazioni con un primo decreto che prevedeva in sostanza un parere della direzione antimafia e poi con un secondo decreto. Questo dimostra che probabilmente non c'erano le idee molto chiare se è dovuto intervenire con due provvedimenti d'urgenza in due tempi, avendo già sulla scrivania i dati che aveva la commissione antimafia perché erano stati forniti dal DAP, quindi da lei. E quindi diciamo questa è una valutazione politica. Però strutturalmente, io devo dire, il tema delle carceri è un tema che va affrontato e lo dico anche in occasione della presenza del Dottor Petralia in tema più ampio. Noi abbiamo una presenza molto molto vasta di persone che sono in custodia cautelare nei carceri. Abbiamo il fenomeno delle porte girevoli, abbiamo ovviamente la necessità di avviare due percorsi diversi. Da un lato le persone in custodia cautelare che quindi si attendono di uscire in vista del processo, anche se questo non accade quasi mai o accade raramente, e le persone che devono scontare una pena. Il lavoro nelle carceri è un tema che non è mai stato affrontato in modo strutturale. Cioè nel senso che noi vediamo le statistiche e lavorano al 30 al 40 per cento, ma poi vediamo che lavorano le dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Non lavorano, diciamo, per formarci un bagaglio professionale successivo. Ecco, io visto che oggi attiene al tema delle carceri l'audizione, chiedo al Governo se è intenzionato a prospettarci a portare un piano ampio che sia anche di operatività finalizzata all'aspetto rieducativo. Perché questo non c'è. Mi pare che, diciamo, voi abbiate soltanto paura di far sfuggire dal vostro controllo, alla vostra impostazione mentale, il tema delle carceri, ma non pensare che il tema delle carceri è, diciamo, da affrontarsi in vista della vita successiva, quotidiana, delle persone. Grazie, Bartolozzi. Grazie, Presidente. Modulerò l'intervento sulla base di quello che il Ministro ha detto nella relazione. 498 scarcerazioni, di cui 4 li è tenuti al 41 bis, gli altri in altra sicurezza. Quindi parliamo non solo di mafia, ma di criminalità riconizzata ed altro. Ministro, lei ha definito questi fatti un'emorragia. E quello che io le imputo in maniera molto forte, netta e chiara è una grande, grandissima responsabilità politica per la sua mancanza di strategia. Non ha effettuato quello che doveva fare sin da gennaio, all'inizio dell'anno quando è stato proclamato lo stato d'emergenza, programmare, prevenire, prima verificare, poi programmare e prevenire l'emorragia che ne è conseguita, sacrificando all'altare da una parte la magistratura di sorveglianza e scaricando e me anche l'apicale. Allora io le chiedo delle cose, diciamo, di facile intuizioni. Cosa avrei fatto io quando si è verificata? Come andava affrontata? Lei dice il 123 è un meccanismo che sta nel Curitalia che non ha imposto alla magistratura di sorveglianza nulla, tantomeno far uscire i mafiosi. Ma io le chiedo, perché quando è uscito il Curitalia lei non ha inserito all'interno del 123 una disposizione normativa che regolasse lo scioglimento del cumulo e rendesse ostativi reati per mafia? Evidentemente o sconosceva il problema o l'ha dimenticato. Ma le chiedo ancora, perché non ha inserito nel Curitalia il doppio, reinserito il doppio binario, quindi reati di mafia 416 bis capoverso trattati in un modo, tutti gli altri in un altro? Perché non è intervenuto sulla modifica del 4 bis, Ministro? Perché si è limitato a normare con tre decreti, inseguendo l'emergenza, quindi non anticipando l'emergenza, ma inseguendo l'emergenza, perché si è limitato a emanare tre decreti che poco hanno risolto la questione e che allo Stato in realtà hanno bisogno di ulteriori correttivi. E perché dico correttivi, Ministro? Perché specie il decreto 29 del 2000, vado a farle domande, secondo me rappresenta diversi profili di censure e di vaglio nei quali lei è incappato già con l'anticorruzione da parte della Corte Costituzionale. Primo, lei sdoppia la competenza, magistratura di sorveglianza giudice, c'è un nuovo criterio, prima come qualcuno ha anticipato agli interventi del magistrato di sorveglianza che manava il provvedimento, salvo poi che questo venisse ratificato e modificato dal Tribunale. Qui lei dice, Tribunale di sorveglianza, in qualche modo non si capisce se è la magistratura o il Tribunale. Fa, introduce un nuovo caso di irrevoca che avrebbe effetti retroattivi. Ministro, le ricordo, ci ha imbattuto con l'anticorruzione, ci imbatterà nuovamente con questa normativa. Ed ancora, le ultime due domande per le quali vorrei, sono cose tecniche, Presidente, non le ultime due. Lei prevede che il decreto si applicherà, me lo sono segnato, dal 23 febbraio 2020, perché non dal 31 gennaio, da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, perché questa data differita e da ultimo come fa a non prevedere nei casi di revisione dei provvedimenti l'istaurazione di contraddittorio con la difesa. Ecco, Ministro, una buona politica, quella buona politica che lei avrebbe dovuto, se avesse conosciuto il problema, operare, manca. Manca adesso e purtroppo mancherà, perché le mancano, con tutta l'onestà intellettuale che credo di averle sempre rappresentato, le mancano le competenze per gestire questo grandissimo problema. Grazie. Finito con il gruppo Forza Italia, ho iscritto adesso per il PD, collega Bazzoli. Sì, grazie, grazie Presidente. Anche io, anzitutto, voglio salutare e augurare buon lavoro al consigliere dottor Petraglia, nuovo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che avrà un lavoro importante da fare da qui ai prossimi mesi. Ringrazio il Ministro per l'audizione, per l'informativa e per la ricostruzione che ha fatto di ciò che è accaduto in queste settimane, che a mio modo di vedere ha contribuito a spazzare via molte delle falsità che sono state dette anche in queste settimane, nell'ambito di una polemica politica legittima, ma che ogni tanto ha anche travalicato, secondo me, gli aspetti di verità e di onestà intellettuale che dovrebbero essere sempre connaturati al confronto politico. Le cose che ha detto il Ministro oggi, secondo me, hanno contribuito in qualche modo a dissipare molti dubbi e molte ombre. Intanto il Ministro ha ricordato quanto è stato fatto per cercare di gestire l'emergenza Covid in carcere, ricordando che la preoccupazione che ha accomunato tutti noi, quindi noi della maggioranza e il Ministro, è stata quella di evitare che le carceri potessero trasformarsi in potenziali strumenti di contagio, visto che ovviamente dentro le carceri il distanziamento sociale non è possibile e quindi occorre adottare tutte le misure che evitino il rischio di epidemia interna alle carceri. Quindi ha ricordato i controlli in entrata e in uscita, ha ricordato l'introduzione di colloqui tramite strumenti elettronici, quindi evitando la presenza personale dei familiari. Ha ricordato anche le misure adottate per cercare di ottenere una deflazione della proporzione carceraria che anche noi ritenevamo e riteniamo una delle condizioni per cercare di evitare il rischio che la pandemia arrivasse all'interno dei penitenziari. E i numeri che ha citato il Ministro a questo punto di vista sono abbastanza eloquenti perché la popolazione carceraria inizialmente a inizio pandemia era di 61.000 detenuti, oggi ci dice che di circa 52.700, quindi ci sono 8.500 detenuti in meno. Questo è dovuto in parte, come ha detto il Ministro, a una riduzione degli ingressi perché i reati sono calati, in parte è dovuto anche all'applicazione delle misure adottate dal Governo, in particolare dall'articolo 123 del decreto Cura Italia, anche se i numeri che oggi ha citato il Ministro sono numeri abbastanza contenuti dell'applicazione del 123. Noi, come San Ministro, siamo stati e siamo dell'idea che in realtà quella misura, che è una misura che consente l'applicazione della detenzione viciliare per i detenuti che devono scontare fino a 18 mesi, sia una misura utile a consentire, a garantire il diflazionamento della popolazione carceraria, è una misura che noi riteniamo andrebbe implementata e incrementata se, come dice il Ministro, ad oggi ha prodotto risultati non ancora all'altezza delle aspettative, perché sappiamo che erano almeno 6.000 detenuti, la platea di detenuti che potevano usufruire di questa misura. Crediamo che questo sia un lavoro che va ancora migliorato, anche perché il rischio è che da oggi in avanti la riduzione della popolazione carceraria che si è registrata possa cominciare ad avere un andamento inverso, perché con la riapertura delle attività e la riapertura anche dell'ordinaria vita per quanto possibile con la fase 2 è verosimile che gli ingressi in carcere cominceranno a riaumentare, quindi c'è il rischio che la popolazione carceraria aumenti e quindi che ci si ripresenti tra poco il problema al quale abbiamo cercato di ovviare in queste settimane e cioè di una sovra popolazione rispetto ai posti disponibili che sappiamo sono circa 50.000 posti disponibili, quindi anche oggi cheppure c'è stata una riduzione c'è una popolazione superiore ai posti disponibili. Il rischio appunto è che con l'aumento degli ingressi questo avvenga ancora e quindi occorrerà secondo me concentrarsi ancora su una deflazione della popolazione carceraria secondo noi cercando di far funzionare meglio anche l'articolo 123 del Cura Italia. Ma la relazione del Ministro ha anche consentito di dissipare i dubbi sul problema che abbiamo registrato in queste settimane e che ha, io credo giustamente, anche allarmato l'opinione pubblica e cioè il fenomeno della scarcerazione di alcuni detenuti anche con danne significative sulle loro spalle. E ha dissipato i dubbi perché ha ricordato il Ministro, ed è bene ribadirlo perché ogni tanto nella polemica politica si è persa anche la verità diciamo di questi aspetti, non centrano nulla queste scarcerazioni con i provvedimenti adottati dal Governo, in particolare non centrano nulla con i provvedimenti adottati dal Decreto Cura Italia, cioè con l'articolo 123 e 124 con i quali appunto si è inteso, come dicevo prima, cercare di deflazionare la popolazione carceraria. Non centrano nulla perché ovviamente sono provvedimenti assunti dalla magistratura di sorveglianza in totale autonomia ma senza applicare quelle norme previste dall'articolo 123. Eppure dicevo che hanno giustamente preoccupato l'opinione pubblica perché effettivamente alcuni di questi detenuti hanno una carica di pericolosità sociale che avrebbe dovuto consigliare una valutazione diversa e qui probabilmente si è registrata una falla del sistema alla quale abbiamo cercato di rimediare come maggioranza con i due decreti che il Ministro ha ricordato e che a nostro modo di vedere non si prestano da alcuna censura dal punto di vista della loro legittimità perché conservano e garantiscono alla magistratura di sorveglianza la totale autonomia di valutazione semplicemente garantendo da un lato una rivalutazione alla luce dei fatti diversi e della fase 2 della pandemia e di eventuali nuove disponibilità di strutture all'interno dei penitenziari e dall'altro lato consentendo ai magistrati di sorveglianza una attività istruttoria più completa attraverso il parere delle direzioni distrettuali antimafia. Quindi questo è secondo noi sono stati interventi utili che stanno producendo anche effetti positivi da questo punto di vista. Ma io voglio e concludo, Ministro, credo che questa discussione sulla situazione carceraria dovrebbe consentirci di fare anche un piccolo passo in avanti perché io credo che il tema della sovrappopolazione carceraria, della condizione dei detenuti sia un tema che deve tornare centrale anche nelle politiche del Ministero della Giustizia. Noi non possiamo permetterci che dopo domani, nel momento in cui cesserà l'emergenza della pandemia o cesseranno gli effetti della nostra attività e anche delle nostre misure adottate con i decreti, non possiamo permetterci il rischio che si torni a un progressivo aumento della popolazione dei detenuti in carcere riproponendo le criticità che la sovrappopolazione carceraria oggi comporta e che ha comportato anche in questa fase di pandemia. Noi dobbiamo concentrarci e capire come intervenire in maniera adeguata su questo complessivo problema. E io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di riprendere in mano una serie di iniziative che riguardano le misure alternative alla detenzione, che riguardano l'implementazione degli uffici dell'esecuzione penale esterna, che riguardano l'aumento di dotazioni organiche dei magistrati di sorveglianza, cioè di tutte quelle strutture che consentano una moderna concezione della pena anche nel nostro Paese. Quindi incrementando tutto ciò che va nella direzione di un incremento del ventaglio di sanzioni che non sono solo quelle detentive e che consentano anche in questo modo di garantire una riduzione della recidiva che la detenzione invece purtroppo comporta. Perché sappiamo che le misure alternative riducono di molto la recidiva delle persone che hanno scontato una pena. Quindi io penso che anche queste vicende di queste settimane debbano consigliarci e indurci ad andare con grande forza in quella direzione. Ed è su questo che noi invitiamo la maggioranza e il Ministro a lavorare nelle prossime settimane. Grazie. Per Fratelli d'Italia, Maschio e Varchi. Maschio. Grazie Presidente. Ovviamente sette minuti sono insufficienti per un confronto approfondito su temi così delicati, quindi cercheremo in questi pochi minuti di concentrare le questioni minimi essenziali. In primo luogo ovviamente facciamo anche noi i migliori auguri di buon lavoro al dottor Petralia con il quale ospichiamoci possa essere un confronto più stretto e con risposte più chiare rispetto al suo predecessore. Come Fratelli d'Italia abbiamo più volte segnalato il problema del soffollamento carcerario segnalando come la soluzione non fosse quella di decongestionare le carceri liberando i criminali ma fosse quella di adottare misure strutturali sia sull'edilizia penitenziaria sia ovviamente sul personale che consentissero in primo luogo alla polizia penitenziaria, ai tanti agenti vittime di aggressioni in tutti questi anni e ovviamente anche ai detenuti poter stare in condizioni dignitose. Il tema principale su cui questo ministero e anche nella sua precedente maggioranza giallo-verde aveva fatto grandi promesse era quello del rimpatrio dei detenuti stranieri che rappresentavano circa un terzo della vocazione carceraria e ad oggi purtroppo questo tema è fallito miseramente al di là dei proclami di inizio del vostro mandato. Venendo poi all'emergenza Covid è evidente che il governo sia stato colto impreparato nella gestione dell'emergenza e che abbia adottato misure tardive sufficienti se solo pensiamo al fatto che rispetto alla programmazione dello stato di emergenza il 31 gennaio il primo lockdown importante è stato attuato solo il 9 marzo quindi 38 giorni dopo e altrettanto il ministero della giustizia è stato impreparato nella gestione dell'emergenza Covid nelle carceri e nei tribunali e negli uffici giudiziali. Del resto noi a gennaio e a febbraio eravamo costretti a parlare di prescrizione anziché essere concentrati su una incombente emergenza che stava per esplodere e infatti l'edificio già pericolante del nostro sistema carcerale è crollato immediatamente quando è arrivata la pressione dell'emergenza Covid alimentata anche come abbiamo visto purtroppo dalla criminalità organizzata che ha voluto sfruttare la situazione per aprire un fronte che ha portato tutto quello che abbiamo visto e ci dispiace molto che la risposta dello stato alle rivolte nelle carceri sia stata tardiva debole inadeguata e rappresenta ad oggi una umiliazione delle nostre istituzioni perché non sono state adottate misure efficaci nel reprimere quelle rivolte lasciando immaginare che fosse tutto sommato conveniente a chi le ha animate mettere in pratica quelle rivolte per guadagnare spazio nei confronti dello stato e aprire il fianco ad altre conseguenze a cui abbiamo assistito. Ne è conseguita poi la vicenda delle scarcerazioni dei mafiosi. Al di là del fatto che solo 6 e 5 siano stati quelli scarcerati in senso stretto ai sensi della legge 199 o dell'articolo 123 non c'è ombra di dubbio che il combinato disposto dei messaggi dati dal governo con il decreto dalle lacune di alcune norme compreso l'articolo 123 e dalla circolare del DAP che ha ovviamente aperto il fronte a scaricando ovviamente poi la responsabilità sui magistrati di sorveglianza è chiaro che abbiano aperto un fronte che ha fatto passare messaggio in determinati ambienti che ci fosse un'opportunità da accogliere per liberare molti detenuti. Nel frattempo le confesso che abbiamo assistito con enorme imbarazzo al suo intervento non in questa sede non in Parlamento ma in uno studio televisivo in un confronto con il dottor Di Matteo è stato francamente imbarazzante anche perché in quel confronto ripeto televisivo lei non è riuscito a dare risposte chiare e convincenti. Altrettanto grave è che un magistrato componente del CSM faccia determinate affermazioni in quella sede e non in altre sedi. Nel frattempo mi avvicino a concludere per non sottrarre il tempo alla collega. Nel frattempo non solo mentre lei era distratto da queste vicende nel frattempo l'11 maggio rieprivano i tribunali e anche qui abbiamo riscontrato caos e difformità tra un ufficio giudiziale e l'altro tra un distetto e l'altro nell'applicazione di protocolli chiari che ancora non ci sono nella gestione dell'emergenza. Avrei altre cose da dire ma devo lasciare spazio alla collega. Con un'ultima domanda mi avvicino alla conclusione. Come cambierà la gestione del ordinamento penitenziario del sistema carcerario con questo nuovo incarico, con questo avvicendamento con il predecessore Basentini. Grazie Varchi. Buongiorno a tutti. Io sono soddisfatta a metà dell'accoglimento della richiesta che oltre due mesi fa avevo avanzato in questa commissione al ministro perché la ritengo tardiva. La ritengo tardiva perché credo che la sede istituzionale la commissione giustizia sia il luogo deputato ad affrontare alcuni aspetti più tecnici che vedono impegnato il ministero della giustizia. Ecco perché l'avevo chiesta prima che la situazione come si suol dire degenerasse come abbiamo potuto constatare nelle ultime settimane. La ritengo tuttavia tardiva perché già dall'inizio di questa emergenza io mi ero fatta portavoce di una situazione di allarme che arrivava dalla popolazione penitenziaria nel suo complesso considerata, quindi i detenuti e tutte le persone, gli uomini e le donne che vestono la divisa della polizia penitenziaria e gli uomini e le donne che con altri ruoli si recano a lavorare quotidianamente all'interno dei nostri istituti. È evidente che qualcosa non abbia funzionato, non serve corroborare questa mia affermazione se non richiamando le intervenute dimissioni del dottore Basentini che da sole spiegano e dimostrano che più di qualcosa forse non ha funzionato. E però ci sono stati alcuni episodi che io pure ho richiamato in alcune interrogazioni. Al personale che si recava negli istituti carcerari e penitenziari non è stato fornito per tempo tutto il materiale necessario alla loro protezione, non sono stati forniti adeguati protocolli per la prevenzione e il contenimento della diffusione del coronavirus. E ancora alcuni episodi che io ho portato alla sua attenzione, Ministro, con una specifica interrogazione. Il caso dell'ex deputato regionale siciliano Rugirello presso il carcere di Santa Maria Capoavetere o ancora il caso dell'ispettore Capo che da bollate ha denunciato la situazione nella quale si trovava a fronteggiare l'avvenuto contagio da coronavirus. Sono episodi spia di una situazione preoccupante che noi di Fratelli d'Italia abbiamo denunciato per diversi mesi. Non è il momento né la sede di individuare capri e spiatori. Certamente io ritengo che questa e non una trasmissione televisiva sia la sede nella quale lei, signor Ministro, debba rendere conto del suo operato a chi rappresenta i cittadini. Ho trovato molto scomposta quella vicenda che secondo me non ha fatto bene alle istituzioni che non solo lei rappresenta. La mia domanda, giusto per avviarmi alla conclusione, è a fronte di tutta una serie di episodi scaturiti anche dalla gestione dell'emergenza in sede penitenziaria, alla luce delle manifestazioni, dei tumulti, delle rivolte che si sono verificate all'inizio di marzo io chiedo di sapere qual è lo stato dell'arte all'interno degli istituti penitenziari in ordine alla protezione del personale che lì presta servizio e della popolazione detenuta e il rispetto di tutte quelle garanzie che lo Stato deve continuare a mantenere inalterate nei confronti dei detenuti. Mi rivolgo in particolare a coloro che sono ancora subiudice e quindi hanno la necessità di interlocuzioni con i difensori, hanno la necessità di contatti con l'esterno. Grazie, per Italia Viva, Annibali Vitiello Ferri. Annibali, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno, buon pomeriggio Ministro e un saluto anche da parte mia, da parte nostra al Dottore Petralì a cui facciamo gli auguri di buon lavoro, un lavoro sicuramente delicato e importante. Ministro, noi l'abbiamo avuta in aula pochi giorni fa, l'altro due giorni fa credo, e sul tema delle carceri al di là della polemica televisiva che mi interessa relativamente, noi abbiamo espresso, mi sembra come sempre, in modo molto chiaro e netto quello che è il nostro pensiero rispetto a una generale gestione delle carceri, degli istituti penitenziari che poi si è andata a scontrare con l'emergenza Covid. Quindi in realtà noi riteniamo, e mi sembra che i fatti poi lo abbiano dimostrato, le anche dimissioni del precedente Capodap, che in realtà le due questioni sono andate a scontrarsi, quindi il Covid abbia sostanzialmente messo in luce una mancanza di gestione ordinaria che poi dopo ne ha subite le conseguenze. Lei questa mattina ci ha fatto una relazione, non so come se forse nulla fosse avvenuto, ecco in questi mesi, ricordiamoci che ci sono state delle rivolte, cioè ci sono stati dei fatti comunque importanti. Il tema delle scarcerazioni, io sono d'accordo che vada ricostruito all'interno di quelli che sono i principi di legge comunque appunto costituzionali e quindi non strumentalizziamolo da nessun punto di vista, non scarichiamo davvero, non mettiamo dubbi, insomma anche questi strumentali sul lavoro della magistratura di sorveglianza, che credo invece l'abbia aiutata molto in questa necessità, che è già strutturale, ma in questo momento particolare, di mettere mano al tema del sovraffollamento. E quindi quando ne parliamo bisogna parlare in termini corretti e di rispetto da ambo i lati. Io ho sentito affermazioni che onestamente ho ritenuto abbastanza gravi. Lei ha parlato del 123, noi le avevamo chiesto, ma anche le altre forze di maggioranza in queste settimane abbiamo lavorato con tavoli di lavoro, così chiedendo di renderle ancora più incisive. Qui c'è forse una contraddizione, cioè lei dice che ne sono usciti pochi, grazie al 123, e allora io mi chiedo ma che cosa pensa del tema generale del sovraffollamento, perché quando parliamo di sovraffollamento carcerario dobbiamo anche restituire una ricostruzione veritiera di quella che è la popolazione carceraria nel suo complesso, che non è fatta per la prevalenza non soltanto dei detenuti di alta sicurezza, 41 bis, ma anche per la maggior parte di detenuti che scontano pene molto più lievi. Ecco, quindi di questo bisognerà farsi carico. Quindi, come ci dice anche il garante, l'ho detto pochi giorni fa, sicuramente l'epidemia non è ancora sventata, c'è il rischio di un ritorno, come c'è il rischio di ritorno per il Paese, c'è naturalmente anche per gli istituti penitenziari, per quelle che sono poi le caratteristiche degli istituti penitenziari. E quindi bisognerà porsi il tema di come affrontare un eventuale ritorno, e quindi questa è una parte. Credo anche che comunque nel voler andare avanti, ripristinare, giustamente i colloqui, questo l'apprezzo, si dovrà anche ragionare su ripristinare le attività del volontariato, per esempio, dentro le carceri. L'ambito con tutore. Sì, quindi questo aspetto, quindi come si intende affrontare un eventuale ritorno, ma poi anche più in generale che cosa si intende fare proprio per risolvere, affrontare quel problema del sovraffollamento, e quindi cercando di fare interventi che siano strutturali e lungimiranti, che insomma tengono conto di tutto quello che in realtà ci siamo detti in questi giorni, anche che noi abbiamo chiesto in aula anche rispetto ad una funzione reeducativa della pena. Grazie. Grazie Vitiello. Grazie Presidente. Mi associo agli auguri al Dottor Petralia, della mia capogruppo, e mi associo a tutte le considerazioni che ha fatto la collega Annibali. Voglio aggiungere un'osservazione e due richieste specifiche. L'osservazione, probabilmente le strapperà anche un sorriso dolce e amaro, però il 3 maggio io ero dalla sua parte, Ministro, e mi spiego anche perché. Chiunque attenti allo Stato di diritto, che arrivi da un quisque de popolo, o da chi riveste un ruolo istituzionale, secondo me è ancora peggio da chi riveste quel ruolo, secondo me è una cosa gravissima, è un atto gravissimo, e io sto dalla parte di chi subisce, quindi della vittima, lo Stato di diritto, e quindi nelle vesti adesso del Ministro della Giustizia che ha subito quell'attacco. Certo, la difesa ad oltranza non mi è mai piaciuta, e deve essere sempre giustificata da una serie di comportamenti. Io avrei evitato di rispondere in quel modo. È un atto discrezionale, lo doveva fare, lo doveva ribadire, dall'alto di una torrevolezza che riveste, e non aggaggiandosi ad una serie di spiegazioni che poi non hanno spiegato nulla. Questo mi permetto di suggerirle anche per la prossima volta. Un atto discrezionale, resta un atto discrezionale, lei non deve dar conto a nessuno di quello che decide. Tutto quello che invece fa dopo, a tentativo di giustificazione di un comportamento, di una scelta, va soltanto a suo detrimento. Questo io lo dico perché accadrà ancora, è inevitabile. Detto questo, sempre su questa osservazione, la difesa non può certamente sostenersi su quello che ha fatto con l'anticorruzione e la prescrizione, che sono gli atti un po' simbolo del periodo. Perché? Perché, vede, noi siamo stati molto critici nei confronti di quei provvedimenti, in particolare quello sulla prescrizione, ma anche quello sull'anticorruzione. Non è tanto l'obiettivo della norma, che deve essere sposato da tutte le forze politiche, ci mancherebbe altro, ma ci sono all'interno di quel provvedimento delle abnormità, come il 323 TER, poi ce ne renderemo conto nel corso dell'applicazione in concreto. Insomma, anche l'abuso del 190 bis, il doppio binario è l'eccezione, non è la regola. Io mi aspetto dal Ministro della Giustizia, anche nella prossima riforma del processo penale, che badiamo all'ordinarietà e non alla straordinarietà della misura del doppio binario. È questo che fa la differenza. Le due richieste specifiche. Se ritiene il Ministro che dai soldi che arriveranno, anche dall'uso del MES, che forse se ne farà, se è possibile spendere quota parte di quelle misure per adeguare il livello sanitario delle nostre carceri, perché quello che è successo a Sassari va a difesa la magistratura di sorveglianza, perché in quel contesto ha fatto una richiesta ben specifica. Datemi l'istituto penitenziario che garantisce la tutela della salute di questo individuo, detenuto, che è un cittadino comunque come altri, anche se è recluso. Insomma, bisogna tutelare la salute, bisogna farlo all'interno degli istituti penitenziari. Quando questo è possibile, rendiamolo possibile grazie ai soldi che arriveranno. Seconda richiesta. L'invito a concludere. Mi riferisco ai Presidenti dei Tribunali, ai Presidenti delle Corti d'Appello, di regolare l'accesso ai luoghi. Io mi permetto, sono 200 protocolli, ne abbiamo contati, 200 protocolli in tutta Italia, e creano veramente uno stato di fortissima agitazione. Lei avrà visto, come ho visto io, le fotografie dei colleghi che fanno la fila per entrare all'interno dei tribunali la mattina per andare a lavorare. E questo, secondo me, non è giusto. Occorre dare un protocollo che sia unico, che sia anche intelligente, di quello che si può e non si può fare all'interno dei tribunali. Grazie. Grazie. Fari. Sì, grazie Presidente. Arrivo subito al dunque. Le consiglio, Ministro, la lettura di un articolo di oggi a firma di Roberto Scarpinato, sul Fatto Quotidiano, perché l'ho trovato molto equilibrato e gli ha spiegato davvero gli errori che sono stati commessi. Allora io, davvero ce lo siamo detti tante volte, quello che voglio sottolineare è che purtroppo quando si parla di giustizia non si può andare avanti né con gli slogan né con le dirette Facebook, ma ci sono dei diritti in gioco, delle tutele dei diritti. C'è un diritto della difesa, un diritto alla salute e c'è anche il diritto e il principio, scusi, della certezza della pena. Allora lei da una parte sventola la legge sulla prescrizione e parla delle vittime, e parla delle vittime. Invece delle vittime di mafia non le interessa, perché oggi quello che è successo deve pensare cosa ha significato e cosa significa mandare, differire l'esecuzione della pena a Pasquale Zaccaria e a Cataldo Franco. Ecco, e va di bene che non c'è un tema solo del 41 bis, c'è un tema anche di alta sicurezza. Nell'alta sicurezza, voglio ricordare non a lei ma che ci ascolta da fuori, rientrano anche tutti i 416 bis, codice penale, condannati, detenuti per 416 bis, e anche quelli per reati aggravati dell'articolo 7 della legge della mafia. Quindi il collegamento con la mafia. Quindi il tema non è solo quello del 41 bis. Allora, alle vittime di mafia, cosa vuol dire lei oggi? E l'altra cosa che io voglio sottolineare, che a lei non le ho mai sentito dire, beato lei, ho sbagliato, ho commesso un errore, ho sottovalutato. E allora in questo articolo che le segnalavo, giustamente si segnala l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario. Nell'articolo 11 c'è scritto cosa bisognava fare. Allora, nel momento in cui scoppia l'emergenza sanitaria, lei si deve occupare di carceri e di tribunali. Quindi, questi sono i temi. C'è un problema di diritto di difesa e di revoca, perché voglio vedere ora cosa solleveranno, e quindi anche questi interventi che ha fatto non vanno bene. E poi un tema di personale, personale penitenziario. Io voglio ringraziare la Polizia Penitenziaria e i direttori, perché hanno gestito loro un'emergenza davvero drammatica, con morti, con distruzioni di carceri, e tutto quello che abbia letto sui giornali. E la invito allora, e lo dico anche al nuovo capodipartimento, a prendere anche tutti gli idoni di vecchi concorsi. Abbiamo, per esempio, 375 ragazzi, più 80, che hanno fatto il concorso nel 2011, che hanno una graduatoria che scade il 30 settembre del 2020, e che sono dimenticati. Allora, andiamo a rivedere anche le vecchie, assumiamo gli idoni e cerchiamo anche di dare forza alla Polizia Penitenziaria, al GOM e al NIC, e credere di più anche nei mezzi della nostra Polizia Penitenziaria. E si assuma una responsabilità, nel dire che non ha saputo gestire l'emergenza sanitaria, e che anche una responsabilità politica c'è nella scarcerazione dei boss mafiosi. Perché c'è, e ci sono le norme che lo dicono. Invece lei, con quella circolare del 21 marzo, ha scaricato tutto sui magistrati di sorveglianza, che devono tener conto delle relazioni sanitarie, e quindi è stato un tira e molla, un rimpalla a dire arrangiatevi, per noi è così. Invece andava risolta la questione dal punto di vista organizzativo, con le strutture sanitarie che abbiamo, come abbiamo fatto noi, quando nel caso di Totò Rina e Bernardo Provenzano, e l'abbiamo gestita dentro le nostre strutture penitenziarie. Questo vuol dire avere rispetto di anni di storia contro la mafia, e avere rispetto delle vittime. Quindi non basta lo slogan, ci vogliono i fatti. Bene, l'ultimo intervento. Per Leo Ciaconte, grazie. Sì, grazie Presidente. Grazie anche al Ministro per questo nuovo aggiornamento sul sistema penitenziario. Pensavo potesse essere questa un'occasione, vista anche la presenza del Dottor Petralia, a cui va il saluto mio e del gruppo che qui rappresento, per parlare finalmente, avviare una discussione compiuta e matura sulla riforma del sistema penitenziario. E però, evidentemente, il tempo passato è troppo poco dalla discussione parlamentare, di cui questa sembra un seguito per le accenti polemici e strumentali che la stanno caratterizzando. E forse addirittura, e questo va per lei, Ministro, un'anticipazione del peggio che verrà nella discussione sulla sfiducia presentata nei suoi confronti al Senato. Un'occasione persa, purtroppo, devo dire, per parlare del problema politico vero da cui si è generata tutta questa vicenda, che è il sovraffollimento delle carceri. La mia riflessione è del tutto assonante con quelle dei colleghi del Partito Democratico e di Italia Viva che mi hanno preceduto, perché questo problema è rimasto evidentemente sullo sfondo. Ed è stata la precondizione sulla quale si è innestata l'emergenza sanitaria e di seguito i provvedimenti sia di tipo governativo, sia di tipo giurisdizionale che l'hanno scadenzata. Nella sua relazione lei ricordava che l'articolo 123 del Cura Italia ha prodotto un effetto tutto sommato ridotto di scarcerazioni. Io non la metterei nella colonna delle note di merito del Governo, questa considerazione, perché tra l'altro lei sa bene che in più occasioni l'ho spinta a valutare e ho indicato alla maggioranza soluzioni praticabili perché questo avvenisse una maggiore operatività di quella norma che probabilmente avrebbe potuto determinare un maggiore effetto deflattivo e ridurre lo spazio che invece abbiamo lasciato al sistema perché la riduzione della popolazione carceraria che si è avuta tanto da poterle fare dire oggi che noi abbiamo una situazione sotto controllo è avvenuta per un verso per la mancata produzione di arresti chiamiamola così e per l'altro per l'anticorpo che lo stesso sistema ha generato. Noi sappiamo che la giurisdizione complessivamente considerata è un sistema complesso di vasi comunicanti e quindi quello che non è avvenuto per un indirizzo politico governativo chiaro è avvenuto perché vi ha provveduto il sistema è in questa logica che io colloco le scarcerazioni a cui i magistrati di sorveglianza considerati complessivamente senza fare qui distinzioni sotto il profilo tecnico hanno ceduto perché devono dare una risposta con il loro ufficio a delle esigenze reali. La scarcerazione ad opera di magistrati di sorveglianza tra l'altro non può essere trattata in questa sede con un approccio politico come se fosse un fatto che prescinde dalla giurisdizione. La giurisdizione ha un suo equilibrio ha una sua organizzazione anche dei rimedi endogeni e tra le possibilità che la giurisdizione contempla è quella della revoca di una misura carceraria in pendenza di motivazioni sufficienti e adeguate a che questo avvenga. Certo è stato un fatto grave e allarmante la schiacciazione dei tre o quattro boss che erano al 41 bis su quello c'è stata una defianza del sistema a quella defianza del sistema è stato prontamente posto rimedio e la presenza del dottor Petraleia qui nella prova testimoniale in carne ed os e dal punto di vista governativo è stato approcciato un meccanismo di revisione che valendo pro futuro cioè rappresentando un sistema di rivalutazione di misure pendenti in base a elementi sopravvenuti non si presta a critiche circa la presunta retroattività dal mio punto di vista e però resta il fatto che vi sono state anche molte scarcerazioni che riguardano detenuti che non presentano profili di allarme sociale così gravi da destare una preoccupazione tanto allarmante per il Paese di quelle ci dobbiamo occupare per capire il perché è avvenuto per aprire una discussione vera che riguarda la riforma del nostro ordinamento penitenziario perché a breve si riproporrà il tema di un personale penitenziario e di un personale carcerario superiore alle possibilità di accoglienza delle nostre carceri a breve la produzione ritorno a utilizzare questa espressione di arresti riprenderà con la fase 2 così come il resto la sua vita nel Paese e allora teniamo distinte se vogliamo affrontarle le due questioni della lotta alla mafia che come ho già sostenuto in aula dovrebbe adesso e le rivolgo nuovamente questo invito a una riflessione con i suoi uffici salire di tono anche e soprattutto sotto il profilo diciamo della lotta finanziaria alla mafia oggi Tiziana Maiola sul riformista una persona è una testata non certo possono essere sospettate di appartenenza politica almeno alla mia parte politica ritornano sul tema con argomenti dello stesso tipo teniamo distinta la lotta alla mafia dalla questione che riguarda l'ordinamento penitenziario che riguarda cioè la organizzazione in un paese civile di un sistema per scontare la pena che non abbia una versione unica un modello unico di espletazione cioè quella della riduzione della libertà delle persone tra le mura di un carcere essendo tra l'altro questa una misura storicamente inadeguata a garantire la finalità costituzionale dell'articolo 27 sappiamo bene della capacità addirittura recidivante che viene dalla vicenda carceraria dobbiamo riaffrontare secondo me ministro io non ho per lei consigli anche perché continuo a dare cattivi esempi e me li tengo cari ma richieste dobbiamo riprendere ad affrontare il tema della probation come la definiscono gli anglosassini con misure alternative alla detenzione le chiedo di rivalutare una scelta sbagliata fatta all'inizio della legislatura quando lei era ministro del cosiddetto governo giallo-verde di cestinare la riforma dell'ordinamento penitenziario quella riforma è stata il frutto di un laborioso e lungo lavoro di tutti gli addetti e gli esperti del settore riprendiamola quantomeno come punto di riferimento per iniziare a lavorare su due versanti quello di un intervento che riguardi un ammodernamento delle carceri lei in Parlamento in un'occasione passata ricordò diciamo il fatto che vi sono carceri dei modelli carcerari in Italia di eccellenza quelli non devono rimanere soltanto degli esempi da citare come eccellenza dovremmo provare a generalizzare quei modelli cioè immaginare un intervento che ha anche un valore di carattere economico che riguarda anche la politica dello sviluppo di questo paese per una riforma delle carceri dal punto di vista delle strutture e delle infrastrutture che le servono e poi riprendere a valutare a studiare modelli perché la pena per reati che non creano allarme sociale con una distinzione che va fatta in maniera adeguata equilibrata possa avvenire con forme diverse da quelle carcerarie questa credo sia una necessità non più ovviabile che ha carattere culturale carattere sociale e un carattere giuridico diciamo ormai non più rinviabile e in questi sensi io la invito a riflettere su una sessione specifica da destinare a questo tema grazie sono conclusi gli interventi ringrazio tutti per essere rimasti nei tempi che avevamo stabilito do quindi la parola al ministro per la replica prego sì presidente gli interventi sono davvero tanti e molto dettagliati come avevo già anticipato proverò a dare una risposta diciamo a tutti almeno in linea di massima rinviando poi risposte dettagliate che arriveranno alla commissione riguardo ai primi interventi che sono stati fatti mi si chiede più o meno se ci sono dei feedback positivi in relazione ai due decreti che sono stati approvati attualmente sì riteniamo che sia positivo il fatto che siano partite delle istanze dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria come sapete è stata riesaminata la situazione di un detenuto e adesso la macchina si sta riattivando per prendere in considerazione tutta la rivalutazione delle condizioni sanitarie dei detenuti per reati gravi che hanno ottenuto una scarcerazione il termine chiaramente molto a tecnico per motivi di salute ora io io anche certo anche perché lei sa scusi così posso fare un ragionamento lei sa che il decreto come ho previsto nella come avevo detto nella relazione il decreto dà la possibilità ai magistrati che hanno fatto le valutazioni di riprendere in considerazione quelle valutazioni entro 15 giorni ma stabilisce come ho detto nella relazione che ciò avvenga immediatamente così scritto nell'ultimo decreto legge nel caso in cui ci sia una comunicazione precedente a quei 15 giorni da parte del dipartimento di amministrazione penitenziaria ora io voglio chiarire un punto che è stato sollevato da molti cioè il riferimento è che rigetto completamente cioè il riferimento è una sorta di scarica barile sulla magistratura di sorveglianza che non mi permetterei mai di fare dal primo giorno in cui io ho giurato come ministro della giustizia non sono mai intervenuto e non ho nessun merito particolare al riguardo ho fatto quello che deve fare un ministro della giustizia cioè non intervenire rispetto a singoli casi avere grande rispetto della magistratura e ho continuato a portare avanti questa linea però dobbiamo chiarirci su un punto perché invece mi sembra che tale rispetto non ci sia tutte le volte in cui si ritiene di mortificare il nostro ordinamento costituzionale al punto tale da dire che la magistratura si fa dettare la linea da parte del ministero o del DAP o di qualcun altro diciamo molto più semplicemente la verità e la verità è che quando arriva una pandemia come quella che si è arrivata come quella che è arrivata scusate il problema sulle cacceri si è posto in tutto il mondo non c'è paese in cui è arrivata la pandemia che non si sia posto il problema delle carceri e anche di come diminuire il livello per i motivi che ho detto nella relazione io rivendico semplicemente il fatto che per evitare che ci fosse uno svuotacarceri indifferenziato abbiamo costruito una norma che salvaguardasse il principio della certezza della pena stabilendo che in presenza di alcuni requisiti in un perimetro già definito da una normativa del 2010 che lo ricordo a me stesso era una norma approvata da un governo di centrodestra in quel perimetro io semplicemente semplicemente si inseriscono addirittura ulteriori limitazioni sia in termini di reati considerati dentro la norma sia anche in termini di sicurezza perché mentre la norma del 2010 non prevedeva nessun braccialetto elettronico quindi il detenuto che aveva ancora 18 mesi da scontare andava a casa con i controlli ordinari nella legge nel decreto cura Italia si prevede che ci sia il braccialetto elettronico obbligatorio motivo per cui ci sono state anche delle critiche ritenendo che il braccialetto elettronico avrebbe sicuramente rallentato ora io rivendico con orgoglio che dati alla mano a questo momento l'applicazione del braccialetto elettronico sta funzionando come mai era accaduto prima e a chi mi chiede qual è la prospettiva futura io vi dico che con la maggioranza ma anche con le forze di opposizione sarò molto lieto di valutare quali possono essere le prospettive future per l'ordinamento penitenziario insistendo tanto sulla rieducazione qualcuno ha parlato del lavoro dei detenuti del fatto che non si è fatto nulla io ricordo che io ho trovato un protocollo quando sono arrivato per lavori di pubblica utilità dei detenuti adesso a distanza di quasi due anni ce ne sono circa 70 protocolli ho promesso ho promosso protocolli per lavoro di pubblica utilità in tutta Italia questo secondo me dal mio punto di vista e con le difficoltà che ci sono deve essere la prospettiva dell'ordinamento penitenziario cioè fare in modo che il detenuto possa seguire un percorso di rieducazione vero vero in cui il giudice di sorveglianza davvero in base all'attività del singolo detenuto possa valutare concretamente se quel detenuto può rientrare nella società e in quali situazioni io se per tutti i commissari questa è un'attività semplice io ne prendo atto però se possiamo dirci sinceramente che la situazione delle carceri è una situazione grave che si accumula da decenni perché non mi sento di dare la responsabilità al governo precedente e manco a quello ancora precedente perché stiamo parlando sebbene ricordo che il piano carceri del 2010 non ricordo che abbia liberato grandi posti quello che abbiamo fatto quello che io ho fatto come ministro della giustizia quando anche dopo il primo giuramento con la prima anche col primo governo col conte 1 è stato cercare di investire anche nell'edilizia penitenziaria ma non per una visione carcerocentrica ma semplicemente perché dobbiamo dirci e questo dovremmo dire a tutti che investire nell'edilizia penitenziaria non vuol dire semplicemente fare nuove carceri e io ho già detto che noi da qui a un mese se non ricordo male mi rivetto alla relazione è previsto che ci siano 800 posti nuovi grazie all'apertura di 4 padiglioni che è il frutto proprio del lavoro che è stato fatto in questo anno e mezzo mi scusi ma col conte 1 e mi dispiace che certe osservazioni arrivino dalla Lega perché siamo tutti consapevoli del fatto che se non ricordo male non vorrei sbagliare ricordo ripeto mi riservo di accertare tutto documentalmente però nella prima legge di bilancio fu proprio previsto un regime speciale per consentire all'amministrazione penitenziaria di investire nell'edilizia penitenziaria con una procedura più semplificata che è quello che sta portando alla possibilità di avere più posti più posti all'interno delle carceri ci arrivo ci arrivo senz'altro il ora ritorniamo quindi al discorso il discorso è che con la pandemia in corso i giudici di sorveglianza per cui io ho grande rispetto perché hanno fatto un lavoro incredibile nel doversi trovare di fronte una situazione come quella hanno valutato che in alcuni casi la condizione sanitaria non fosse tale da consentire di rimanere nel carcere e di andare in detenzione domiciliare commento questa decisione? No a differenza di tutti quelli che sventolano il rispetto per la magistratura e dicono che io scarico sui giudici di sorveglianza io non scarico proprio nulla io dico semplicemente che in un periodo di emergenza sono state prese decisioni io da ministro della giustizia deputata deputata scusate lasciamo concludere al ministro perché lei meglio di me lei meglio di me sa non interloquista qui ma io interloquisco volentieri meglio di me sa quali sono i limiti della separazione dei poteri e quindi e quindi quello che dico è che io prendo atto che ci sono state delle decisioni e non posso fare altro e chiunque dice che io posso fare qualcosa in relazione a quelle decisioni sta mentendo quello che ho fatto quello che abbiamo fatto come governo è stabilire che visto che siamo nella fase 2 c'è la possibilità per i magistrati che hanno preso le decisioni di rivalutare cosa che senza questi decreti non sarebbe stata fatta in un tempo così breve ora detto ciò riguardo all'altro decreto al primo decreto che viene che è una risposta importante quella che coinvolge la direzione nazionale antimafia le direzioni distrettuali antimafia possiamo dire chiaramente che quelle che le stanze di scarcerazione per motivi di salute rispondono a leggi che da sempre esistono nel nostro ordinamento giudiziario e possiamo dirci che nessuno era mai venuto in mente rispetto a quelle stanze di coinvolgere la direzione nazionale antimafia e la direzione distrettuale antimafia no va bene posso dire posso dire dati alla mano che a nessuno era venuto in mente perché non esisteva scusate scusate perché non esisteva una legge a riguardo legge che adesso esiste grazie a questo governo riguardo al non non entro perché totalmente inconferente con l'oggetto della della questione sulla telefonata del 3 maggio non fa parte di questa audizione e tra l'altro siccome mi piace avere sempre col Parlamento un flusso comunicativo costante ricordo a me stesso che c'è stata un'informativa due giorni fa se non ricordo male il riguardo alla riforma del CSM anche lì che mi è stata sollevata io non ne entro perché non riguarda e rinvio a qualsiasi audizione ho fatto in precedenza su cui ho indicato quali sono le mie linee come ministro riguardo alle prospettive di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura mi stupisce che questa cosa non lo sappia chi fa parte della forza politica che ha avuto modo di analizzare quel disegno di legge e poi sappiamo disegno di legge che poi non è andato avanti legittimamente non sto facendo nessuna polemica e nessuna critica perché è caduto il governo dopodiché dopo che è caduto il governo c'è stato come giusto che ci sia con la nuova maggioranza un confronto estremamente costruttivo che ha portato già all'approvazione in Consiglio dei Ministri del progetto di riforma del processo civile del progetto di riforma del processo penale e l'ulteriore progetto di riforma che doveva andare in Consiglio dei Ministri su cui già avevamo trovato grande convergenza almeno di massima era proprio quel riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura ma poi come tutti sappiamo è arrivata la pandemia e quindi diciamo la presentazione di quel progetto è stata differita riguardo a quello che diceva il deputato Zanettin cioè sulle esternazioni e sulle intercettazioni io ho chiarito nella puntata stavo parlando di intercettazione quindi mi è venuto quasi naturale ricollegarmi però ho già chiarito in un question time specifico dove ho ringraziato gli interroganti per avermi dato la possibilità di chiarire che erano esternazioni e quindi non erano intercettazioni raccolte dalla polizia penitenziaria quindi non erano esternazioni di detenuti non erano intercettazioni in senso tecnico ma questo l'ho già chiarito al Parlamento riguardo al contraddittorio al rispetto del contraddittorio che è stato sollevato io poi voglio chiarire un punto cioè a me va bene che all'interno della maggioranza ci siano sensibilità diverse è normale è giusto che sia così però noi sappiamo che in occasione dell'ultimo decreto c'è stato un confronto vero a seguito del quale il decreto possiamo dirlo tranquillamente ha rappresentato una sintesi del diciamo di una bella convergenza proprio per dare una risposta in termini di lotta alla mafia forte non mi ricordo che vennero fatti rilievi riguardo alla procedura al contraddittorio posso dirvi che ci sono dei magistrati di sorveglianza che hanno emesso dei provvedimenti ci sono altri che da quello che mi risulta hanno fissato delle udienze proprio per consentire il contraddittorio insomma il decreto si inserisce in una procedura per cortesia facciamo concludere il ministro grazie riguardo riguardo al allora ma il doppio binario mi è stato detto su questa cosa dell'articolo 123 cioè continuare a creare un collegamento tra l'articolo 123 del decreto cura Italia e le scarcerazioni di boss è dati alla mano profondamente sbagliato questa non è un'opinione e basta andare a vedere su che basi sono stati emessi quei decreti poi uno può dire sulla gestione ciascuno si può fare giustamente io sono qui a rispondere al Parlamento e a rispettare tutti voi e rispetto tutte le vostre opinioni quelle più critiche ci mancherebbe però non si può dire che il decreto cura Italia ha creato un collegamento con le scarcerazioni dei mafiosi perché scusate non possiamo andare avanti così mi dispiace se il ministro ha preso parola adesso lasciamolo finire per cortesia è la replica del ministro collega Bartolozzi è la replica del ministro avete parlato tutti adesso avete chiesto che replicasse adesso sta replicando facciamo concludere per cortesia sto cercando di trovare una risposta a più domande visto che ce ne sono tantissime su cui faccio il collegamento chiariamo quindi che il 123 non ha nessun collegamento con le scarcerazioni lei non ha fatto riferimento ci sono stati altri parlamentari che legittimamente hanno fatto riferimento e io altrettanto legittimamente rispondo dicendo che il dato normativo è sbagliato perché non c'è riferimento facciamo concludere vada avanti l'articolo 123 il decreto cura Italia arriva in quando arriva in Parlamento avrà la possibilità come è stato fatto sugli altri provvedimenti di valutare i correttivi che però nel nostro ordinamento non sono mai entrati rispetto a norme che esistono da ventenni questo lo dobbiamo lo dobbiamo dire a me va benissimo ogni osservazione ci mancherebbe la rispetto e riguardo al e ribadisco ancora una volta che lì il doppio binario cioè l'esclusione di qualsiasi detenuto che fosse stato condannato per quel tipo di reati è prevista nero su bianco dopodiché no non è possibile non è possibile facciamo finire per cortesia queste interruzioni impediscono anche di rispondere veramente abbiamo qui il ministro ha ascoltato tutti lasciamolo concludere per cortesia e voglio dire anche un'altra cosa a cui tengo il riferimento alle rivolte è altrettanto sbagliato dire che lo stato ha risposto alle rivolte io guardate nella mia relazione non faccio riferimento alle rivolte proprio perché le rivolte non hanno nulla a che fare con le scarcerazioni quindi sono totalmente inconferenti con l'oggetto dell'audizione sono stato chiamato dal Parlamento a riferire in relazione alle rivolte che ci sono state rinvio a quella informativa aggiungo che riguardo a chi ha chiesto quali provvedimenti siano stati presi per far fronte alla pandemia io ricordo e rinvio a quanto avevo scritto nella avevo riferito proprio nella relazione nell'informativa in aula dove rendevo conto di tutti i provvedimenti che erano stati presi per garantire la salute all'interno delle carceri e su cui poi ciascuno di noi può fare un bilancio positivo o negativo ma vi devo dire che avere allo stato attuale mi riferisco fino ad oggi 110 contagi oggi avere avuto un numero di contagi che a fronte della popolazione carceraria si è limitato più o meno intorno ai 150 detenuti io ritengo che sia stato un risultato importante mi dispiace tantissimo perché c'è stato comunque qualcuno deceduto parliamo di un detenuto e parliamo come ho detto nella relazione di due agenti della polizia penitenziaria ma il dipartimento si è mosso per cercare di rispettare e di tutelare la salute con i provvedimenti che ho enunciato nella relazione di tutti coloro che lavorano nelle carceri e di tutti coloro che vivono nelle carceri e permettetemi di accogliere l'occasione di questa audizione per ringraziare tutta la polizia penitenziaria e tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria perché in questi mesi hanno dato veramente l'anima già la situazione nelle carceri è difficile lavorare in queste condizioni mettendo anche a rischio la propria incolumità in una situazione come quella che si è venuta a creare con quelle strutture è un fatto molto importante e vi dico riguardo a chi ha fatto riferimento alla polizia penitenziaria e cioè alla necessità di dare nuove risorse io non posso che rinviare a quanto ho detto nella relazione cioè se non ricordo male ho parlato di 1100 nuove unità di cui 300 già operativi in sede non non so quanto si potesse fare di più in due mesi ciascuno ha la possibilità anche di fare di fare proposte o di dire che avrebbe portato al lavoro 2000 agenti polizia penitenziaria non credo proprio tutto quello che si poteva fare si è fatto riguardo al ah ricordo che tra l'altro a proposito delle rivolte ovviamente poiché sulle rivolte sono state avviate indagini che chiaramente perché parliamo di fatti molto gravi io non entro nel merito posso dire che nella legge proprio per evitare che ci fosse qualsiasi possibilità di creare un collegamento perché come dissi alla camera non c'è nessuna istanza che viene presa in considerazione se veicolata con la violenza noi nell'articolo 123 abbiamo escluso chiunque avesse preso parte alle rivolte anche se non ricordo male riguardo a procedimenti disciplinari iniziati e non ancora conclusi quindi è stato tutto quello che potevamo fare e lo abbiamo fatto per quanto concerne il vale anche per lei però sta parlando il ministro facciamo concludere non ho compreso la mancata previsione di che cosa però tutti i protocolli tutti i protocolli sanitari in relazione alla situazione covid all'interno delle carceri sono stati oggetto di comunicazione al Parlamento riguardo al sì qualcuno ha fatto riferimento è fuori tema chiaramente riferimento agli uffici giudiziari e al covid lì io mi rendo conto esattamente delle difficoltà e disagi che ci sono che in alcuni casi però sono ineliminabili e il problema della macchia di leopardo di una macchina giudiziaria che si attiva con diverse differenze sui territori è quasi impossibile da eliminare io ho fatto riunioni con tutte le associazioni rappresentative dell'avvocatura della magistratura e anche da quel confronto ne sono derivate alcune modifiche importanti nei decreti che avevamo adottato anche su spinta su impulso e in sinergia con il Parlamento italiano però quando ci sono state le leggi di conversione però io ricordo semplicemente che c'è stato un ordine del giorno che il governo ha adottato immediatamente il giorno dopo e ricordo che quell'ordine del giorno non fu un emendamento approvato perché ci fu un problema parlamentare che certamente non mi compete a seguito del quale comunque la maggioranza ha dimostrato grande volontà di andare incontro alle stanze del Parlamento tant'è che l'ordine del giorno è stato approvato e al primo provvedimento utile sono state adottate le misure conseguenti però voglio ricordare a tutti che l'emergenza Covid rispetto agli uffici giudiziari pone chiaramente diverse problematiche non soltanto in base ai territori di cui stiamo parlando perché è chiaro che ci sono alcune regioni che sono state maggiormente impattate ma anche rispetto alla struttura del tribunale in cui si lavora perché laddove per esempio ci sono delle strutture giudiziarie che si sviluppano tutte in altezza vuol dire che ci sono molte più persone che devono prendere l'ascensore e conseguentemente un rallentamento oggettivo dei flussi di persone che si recano nelle aule ma con questo voglio io ieri l'ho fatto pubblicamente lo ribadisco ancora oggi io ringrazio tutti gli operatori del settore perché ho trovato grande disponibilità al dialogo e grande propensione al sacrificio in un momento così difficile diciamoci semplicemente che non è semplice ce la stiamo mettendo tutta e ieri tra l'altro nel decreto rilancio sono state previste tutta una serie di misure proprio per non solo per tutelare la salute di coloro che lavorano negli uffici giudiziari ma anche per nuove energie all'interno degli uffici stessi credo di aver concluso scusate se non ho risposto a tutti però gli appunti erano tantissimi sì credo di aver concluso sono comunque disponibile no mi dispiace abbiamo concluso l'ha detto prima il ministro tutte le domande a cui si ritiene che non ci sia stata la risposta adesso nella replica immediata invito tutti i deputati a riproporle magari tramite anche tramite la segreteria della commissione sarà bene riteniamo conclusa l'audizione e ringrazio il ministro per essere stato qui e tutti voi grazie 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 grazie